Le immagini che possiamo vedere mostrano l'interno dell'ex Caps di Capua, il centro di accoglienza chiuso nel 1991 e che di fatto negli anni ha continuato ad ospitare numerosi immigrati e italiani senza tetto. Il campo, come possiamo vedere, copre una vasta area ed è costituita da numerose palazzine che, seppur bisognose di ristrutturazione, ospitano ancora 40 famiglie rumene e altre famiglie italiane e polacche. L'amministrazione comunale in questi giorni ha avviato l'abbattimento di alcuni di questi fabbricati e la distruzione dei primi piani di alcune palazzine per impedire l'accesso agli appartamenti. Il terreno è coperto non solo da macerie, ma prevalentemente da sacchetti della spazzatura, probabilmente sversati senza controllo nell'area da diverso tempo. L'amministrazione ha avviato l'abbattimento delle palazzine senza procedere prima ai lavori urgenti di messa in sicurezza dell'area, con l'eliminazione dei cumuli di rifiuti dannosi sia per i residenti che per i cittadini capuani. D'altro canto, nulla è stato fatto per risolvere il problema sociale delle 250 persone che devono essere aiutate a trovare una nuova dimora. I cittadini comunitari residenti nelle palazzine da diverso tempo chiedevano la possibilità di ristrutturare gli stabili in cui dimorano e di poter pagare un regolare affitto. È loro intenzione, infatti, rimanere a capo stabilmente, essendo legati al territorio già da diversi anni ed avendo dei bambini che frequentano le scuole elementari e medi di capo. Le famiglie romene, infine, hanno chiesto l'aiuto di un avvocato e il 17 febbraio hanno avuto un incontro con il sindaco Carmine Antropodi, che era sembrato disponibile ad aiutarle a trovare delle nuove abitazioni, fornendo loro un aiuto economico. Lo stesso giorno, però, il sindaco ha dato ordine di interrompere la fornitura idrica e, pertanto, da quasi un mese le famiglie sono senza acqua. Diverse iniziative a sostegno delle famiglie sono state intraprese sia a livello locale, con la costituzione del comitato spontaneo 24 febbraio, che a livello nazionale, con un'interrogazione parlamentare dell'onorevole PD Pina Picierno. Nonostante ciò, l'acqua non è stata rilacciata e, tuttora, non risulta essersi concretizzata la possibilità di trovare una nuova dimora per le famiglie, che non riescono a trovare abitazioni da affittare in provincia. Il comitato 24 febbraio, con una petizione, ha chiesto al sindaco Carmine Antropoli di poter entrare in possesso della documentazione inerente l'ex CAPS e di procedere ad una ristrutturazione degli stabili abitati, nonché ad una riqualificazione dell'area da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata. L'area, molto vasta, potrebbe costituire, infatti, una valida alternativa alla zona indicata per la realizzazione di 157 appartamenti di edilizia convenzionata in Sant'Angelo in Formis, che ha ricevuto parere negativo dalla sovrintendenza dei beni architettonici e paesaggistici di Casetta, in quanto la realizzazione nel complesso residenziale costituirebbe elemento di detrazione paesaggistica in un'area di pregio su cui insiste un regime di tutela ambientale. Le famiglie che abitano le palazzine rimangono comunque in attesa del riallaccio dell'acqua, così come il comitato è ancora in attesa di una risposta ufficiale da parte del sindaco della città di Capua.